Credo che in questo momento abbia perso un po' di vista quello che è l'obiettivo, uno degli obiettivi della stagione. Sembra che il campionato sia già una cosa archiviata e già vinta. Io invece credo che il campionato, non credo, lo dicono i numeri. Se è vero abbiamo un po' di punti di vantaggio sulla Roma, ma mancano tantissime partite alla fine. E quindi bisogna ritornare a pensare di partire per partita. Domani abbiamo l'Atalanta che va affrontata per cercare di ottenere tre punti che sono molto importanti. Siccome è già da quando siamo andati a più 7 sulla Roma che la Juventus ha vinto, archiviato, no, archiviato niente. E non è niente per scontato che la Juventus vince lo Scudetto. Se la Juventus vincerà lo Scudetto, alla fine ce lo saremo meritato e soprattutto dovremo sudare per arrivare in fondo e vincere. Perché la Roma ha lasciato tanti punti per strada, noi stiamo facendo un buon cammino, ma potevamo sicuramente, dovevamo fare meglio. Turnove per me è una parola che non esiste. Domani in campo andrà chi starà meglio in condizione fisica e mentale per affrontare l'Atalanta. Non faccio nessun calcolo. Valuterò oggi, tra oggi e domani mattina, se poi domani scendo in campo. Perché domani devo mettere in campo la migliore formazione e prendere tre punti. Poi dopo a Roma ci penseremo. A Roma se ci sarà uno squalificato giocherà un altro. Non è assolutamente questo il problema per affrontare la Roma. Mi riferisco a tutti. Mi riferisco a me stesso, mi riferisco ai giocatori, mi riferisco a tifosi, mi riferisco alla società, mi riferisco a tutti. Perché innanzitutto non era e non è scontato che la Juventus debba vincere il campionato. Perché per vincere il campionato e per vincere le partite bisogna conquistarsele sul campo. All'Atalanta c'è da fare solo i complimenti perché è una delle società italiane che da tanti anni lavora molto bene sul settore giovanile e tutti gli anni porta in prima squadra diversi ragazzi. Anche se gli mancherà qualche giocatore però ha una buona rosa soprattutto perché davanti ai giocatori se non c'è Pinilla però c'è Dennis, a metà campo ci sarà Baselli, Anno Migliacci che è un giocatore di esperienza e quindi non è semplice affrontare l'Atalanta. Poi dipendentemente dall'Atalanta domani dipende come sempre tutte le partite che giochiamo dipende da noi come l'affrontiamo e come giochiamo tecnicamente e soprattutto a livello di intensità di gioco. Per quanto riguarda il Bolussia ho detto che siccome la partita non è una partita secca ma un ottavo di finale sono due partite e durano 180 minuti. La cosa fondamentale è che in casa non bisogna prendere gol e vi dico di più se devo scegliere siccome bisogna vincere ma se non vinciamo è meglio fare 0 a 0 che 1 a 1 grazie a tutti